Sono 42 le persone denunciate per la percezione indebita del reddito di cittadinanza. L'operazione è firmata dai carabinieri di Foiano della Chiana in collaborazione con i colleghi del Nucleo presso l'Ispettorato del Lavoro di Arezzo. Secondo quanto riportato in una nota, le 42 persone sono residenti in gran parte nel comune di Foiano della Chiana, ma anche nei comuni di Marciano, Cortona, Sinalunga, Terra Nuova, Capolona, Montepulciano e Castel del Piano. Le persone denunciate a vario titolo e in varie epoche, spiega la nota, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022, avrebbero percepito la somma complessiva di circa 300 mila euro. Secondo le ipotesi investigative, le persone coinvolte nella vicenda avrebbero dichiarato in modo fraudolento di essere residenti presso il comune di Foiano della Chiana da almeno due anni, ovvero di permanere continuativamente da almeno dieci anni sul territorio nazionale e lo avrebbero fatto in maniera fraudolenta. Per loro dunque sono scattate le denunce.